Quest'anno Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni. Per l'occasione la redazione napoletana di Repubblica gli ha dedicato un volume, Troisi 70, il massimo dell'arte, in edicola gratuitamente con il quotidiano lunedì 6 febbraio. Il libro è stato presentato alle scuderie di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, città natale del protagonista del cinema napoletano e italiano, amatissimo sin dagli esordi con il trio La Smorfia e il suo primo successo sul grande schermo ricominciò da tre. Tantissimi gli ospiti che hanno animato l'incontro con ricordi, aneddoti e testimonianze. Abbiamo incontrato il responsabile della redazione di Repubblica Napoli, Ottavio Ragone. Troisi 70, il massimo dell'arte, il libro che Repubblica dà in omaggio ai lettori lunedì 6 febbraio. Perché proprio Troisi? Intanto questo mese e quest'anno Troisi avrebbe compiuto 70 anni. Lo vogliamo raccontare perché è stato, come tutti sanno, un protagonista del cinema e del teatro italiani. Lo abbiamo raccontato illuminando molto gli anni della sua infanzia e della sua formazione giovanile a San Giorgio a Cremano attraverso le testimonianze della famiglia e degli amici. Perché? Perché è nel clima particolare, politico, civile e culturale dell'Italia degli anni 70 e della Napoli degli anni 70 che lui si forma, sviluppa le sue passioni e i suoi talenti e noi abbiamo illuminato molto questo periodo perché è in questo periodo che nasce e si sviluppa il Troisi che poi diventa celebre e famoso in Italia e in tutto il mondo. E poi ovviamente accanto a questo abbiamo anche, come è ovvio, le testimonianze di grandi protagonisti del cinema e del teatro italiani con cui lui lavorò.